Ben ritrovati da Fabio Camillacci, quarto e ultimo capitolo di Crimini e Criminologia, il momento di aprire la consueta Galleria degli Orrori. Oggi parliamo di John Lilly Frazier, il profeta assassino e come di consueto ne parliamo con il nostro compagno di viaggio per la Galleria degli Orrori, il professor Marino D'Amore. Bentornato a Crimini e Criminologia. Grazie mille, buonasera a tutti. Sociologo della comunicazione all'università Nicolò Cusano e criminologo, due parole di introduzione. John Frazier nacque in California il 26 gennaio 1946 a seguito di un incidente d'auto. Alla fine degli anni Sessanta divenne un fanatico religioso assumendo un look da hippie, trascorrendo buona parte della vita quotidiana nella capanna di un bosco e spesso consultando la Bibbia, travisando che la voce di Dio gli sussurrava il giustiziare il prossimo. Abbiamo detto il soprannome il profeta assassino, vittime accertate 5, il periodo degli omicidi è breve, poi scopriremo perché. 19 ottobre 1970, luoghi colpiti Santa Cruz in California, come l'altro protagonista della Galleria degli Orrori della volta scorsa, Herbert Mullen in California. Anche lui, molto simile, uccideva perché sentiva le voci, metodi di uccisione, arma da fuoco e pistola. Fu arrestato il 23 ottobre 1970, condannato alla pena di morte e poi commutato in ergastolo. Periodo di detenzione 29 novembre 1971, 13 agosto 2009, quando poi morì. E scopriremo come col professor D'Amore. Ho detto già, un riferimento a Herbert Mullen ci sta, sono molto simili. Stessa zona, la California e anche stessa situazione, molto simili. Sì, a parte l'area geografica che li accomuna, Santa Cruz in questo senso, in quel periodo diventa una fucina di serial killer. Mullins era uno dei più rappresentativi, ma anche Frazier riesce a iscrivere a fuoco nell'immaginario popolare il suo nome, sia per il modus operandi, sia per le motivazioni sottese a quel modus operandi. Frazier, come abbiamo detto, opera in quel periodo, ha una carriera omicidiaria a livello temporale relativamente breve. nonostante questa brevità comunque riesce a essere particolarmente significativa, soprattutto per le cause e soprattutto per un altro fattore che lo accomuna a Mullins, il fatto di sentire le voci. Ma questa volta le voci vengono, secondo lui, dal divino. Eh sì, l'abbiamo detto, travisando che la voce di Dio gli sussurrava di giustiziare il prossimo. Ecco, punto di svolta. Ne parliamo sempre. Comunque l'inizio di questa follia è quando c'è quell'incidente d'auto di cui parlavo o è successivo? C'è un incidente d'auto che richiama di nuovo alla memoria Mullins, perché ricordiamo che anche Mullins aveva subito quella sorta di involuzione deprecabile proprio grazie a un punto di non ritorno legato alla morte per un incidente stradale del suo migliore amico, Richardson. Diciamo che la vicenda invece di Frazier ha un'evoluzione molto più lenta che procede per steppi. Innanzitutto, rispetto a Mullins, lui nasce e cresce in una famiglia problematica. Rispetto, sì, abbiamo detto, no? La famiglia di Mullins... La famiglia normale, assolutamente. La classica famiglia americana, tant'è vero che per un certo periodo Mullins, come abbiamo raccontato, è anche molto popolare, no? Per esempio al suo college, dove è uno degli atleti e degli studenti più in vista. Invece Frazier nasce da una famiglia da due genitori che sono costretti a lasciarlo perché si separano quando lui ha due anni. La madre non riesce a mantenerlo e lui viene affidato a una casa famiglia. Quindi evidentemente c'è un deficit affettivo importante che connota tutta la fase infantile del piccolo Frazier, che poi sfocerà in un accumulo di rabbia che ovviamente darà i risultati di cui a breve racconteremo. C'è da dire che lui crescendo in questa casa famiglia si distingue già a 14 anni per un episodio di piccola criminalità perché viene arrestato per un furto e per essere appunto scappato da quella casa famiglia. Poi riesce di nuovo a riguadagnare una situazione di pseudonormalità, tant'è vero che a 23 anni addirittura nel 1969 riesce a trovare un lavoro normale, va a lavorare in un'officina meccanica. Da quel momento sembra andare tutto bene anche perché conosce una donna, si sposa e hanno anche una figlia. Però diciamo che la sua psiche inizia a manifestare dei segni di cedimento per usare un eufemismo, fino a quando questi segnali di una criticità forte diventeranno sempre più palesi e anche la moglie rivelerà che effettivamente Frazier era colpito da continue allucinazioni e diceva di sentire le gocci. Facciamo un passo in avanti solo per spiegare e motivare le foto che i telespettatori hanno già avuto modo di vedere, perché abbiamo visto delle foto in cui Frazier appare con metà barba e metà capelli, questo avvenne al processo? Sì, questo avvenne al processo, lui si presentò in questo modo, ovviamente molti ritennero che fece questo per invocare la semi-infermità mentale, ma quando effettivamente sembravano esserci le condizioni perché gli fosse accordata, lui invece si oppose a questo riconoscimento, rivelando invece di essere assolutamente cosciente e consapevole delle azioni che aveva fatto, il che, voglio dire, sottolineava il fatto che comunque una criticità psicopatologica ci fosse. E infatti quel look molto particolare non riuscì a evitargli poi l'epilogo di cui ha parlato lei a inizio trasmissione. Abbiamo visto il lato sinistro del volto era completamente rasato, senza barba, senza capelli, senza sopracciglio peraltro, quindi aveva rasato, lo vedete, il lato destro era rimasto immutato con capelli e barba lunga. Ricorda un po', vedendolo in foto, a me è ricordato molto Charles Manson. Eh sì, e c'è un parallelismo anche lì, perché siamo nel periodo della cultura hippie fondamentalmente, vicenda che lo accomuna anche a un altro protagonista delle nostre storie che è Charles O'Brush, anche lui, lui li uccideva agli hippie, no? Sulla strada chiamata appunto la hippie road. Invece Fraser abbraccia completamente la cultura hippie che lo farà allontanare dalla sua famiglia, quindi dalla moglie e dalla figlia, e lo farà quindi andare a vivere allontanandosi da quella che può essere definita modernità o civiltà, in un bosco, insomma, per ricongiungersi idealmente ma anche effettivamente con la natura. Soprattutto vivrà in una casetta di legno abbandonata. La particolarità di questa casetta di legno è che è in una parte molto isolata di un bosco che è divisa dal resto del centro abitato da un burrone, da un dirupo. Quindi ci si può accedere solo con un ponte tibetano che è costruito appositamente male con delle tavole di legno messe a caso, proprio per impedire eventuali avventori di raggiungere quel luogo che deve rimanere incontaminato. Un eremo. Esatto. Una sorta di eremo. Quindi la cultura bucolica e anche la voglia di rifiutare quella che è la modernità e di riebracciare quei valori che poi sfoceranno in Fresera anche in uno studio, in questo caso di nuovo un parallelismo con Mallins e delle religioni, ma anche dell'occultismo, dell'esoterismo, faranno sì che poi la sua mente possa partorire quel diabolico piano che lei accennava a inizio trasmissione. E allora adesso ne parliamo cosa avvenne il 19 ottobre del 1970 a Santa Cruz? Il 19 ottobre del 1970 si verifica quella che in una serata assolutamente sanguinaria e drammatica può essere definita l'intera carriera omicidiaria di Frazier, perché Frazier si presenta alla porta della famiglia Ota. E vediamo alcune foto. Esatto. Victor Ota è un dottore, un professionista apprezzato dalla sua comunità. Paradossalmente anche lui ama molto la natura. Infatti è riuscito a costruirsi questa villa molto isolata che condivide ovviamente con la famiglia, la moglie Virginia e i quattro figli, due maschi e due femmine, insieme anche alla sua segretaria Dorothy che ogni tanto, come dire, un po' da factotum, da tutto fare, fa anche la babysitter per i figli più piccoli. Quella sera Frazier si presenta alla porta, entra, trova la moglie Virginia con uno dei due figli più piccoli, estrae la pistola, una calibro 38, gli intima di sedersi e gli lega le braccia con delle sciarpe di seta. Sta attendendo che rientri il dottor Ota che in quel momento è fuori casa. Nel frattempo entra la segretaria Dorothy con l'altro figlio, lega anche loro e alla fine riesce ad incontrare perché rientra a casa anche il dottor Ota che ovviamente si trova davanti a uno scenario impensabile e pauroso per un padre di famiglia che ritorna a casa e trova la sua figlia, scusate, la sua famiglia in balia di un pazzo. Anche lui viene legato, gli viene chiesto di abbandonare quella che secondo lui è una vita figlia del capitalismo, della modernità e soprattutto che può intaccare quella che è l'armonia e l'equilibrio dell'ambiente secondo Frazier. Invece Ota si oppone diverse volte e allora Frazier gli spara tre colpi e lo fa cadere nella piscina della famiglia. Ovviamente poi si volta e fa fuori il resto delle persone che c'erano in quella casa. Che stiamo vedendo in foto. Prima la moglie, Virginia, e poi la segretaria Dorothy che vengono uccise secondo una modalità molto simile al regolamento di conti delle organizzazioni criminali con un colpo alla nuca. Un'esecuzione. Un'esecuzione. Poi si volta, vede i due figli e ci pensa un po' prima di premere il grilletto. Poi arriva la drammatica conclusione che gli ordini di Dio, la voce di Dio non possono essere contraddetti, non può essere contraddetta e quindi uccide anche i figli nello stesso modo e getta i corpi nella piscina. Ecco, rispetto a Mallin che diceva di uccidere perché aveva sentito delle voci, dirgli fai questo, compi questi omicidi per evitare terremoti che sono frequenti purtroppo nella zona di San Francisco. In questo caso, l'ordine, perché lo faceva? Era semplicemente sentiva quest'ordine di Dio? A che fine però? Al fine di ritornare a una società premoderna. Tant'è vero che lui abbandona anche l'officina dove lavorava, proprio per questo motivo, perché non voleva contribuire all'inquinamento dell'ambiente. Quello che lui definiva essere l'esercito di Dio, cioè tutte le persone preposte a questa sorta di pulizia, chiamiamola in questo modo, sociale rispetto a tutti coloro che invece riuscivano a caratterizzare e a mandare avanti questo tipo di società, si basava su una semplice dicotomia, doveva avvertire ogni capo famiglia di fare una scelta, di abbandonare quel tipo di vita e avere salva la vita, scusate il litigio di parole, oppure di uccidere i capi famiglia e ovviamente tutta la loro prole e tutte le famiglie che erano con loro. Questa era l'ultimatum, tant'è vero che quella sera poi per tentare di sviare i sospetti appiccherà un incendio nella casa e chiamerà lui stesso i pompieri per avvertire ovviamente con una telefonata anonima che a casa Oda in quel momento c'è un incendio. E infatti c'è anche questa decisione di appiccare un incendio per nascondere tutto. Poi arriviamo all'arresto, le chiedo ovviamente serial killer perché ha ucciso più di tre persone, almeno tre persone, si considera serial killer se uccide tre persone, nel caso suo cinque tutte insieme, poi forse, anzi senza il forse, fortunatamente fu fermato perché uno così poteva continuare. Fu fermato ovviamente serial killer perché c'è la stessa firma, lo stesso modus operandi per tutte e tre le vittime, che è quello dell'esecuzione di cui parlavamo prima e anche l'altro aspetto fondamentale è l'intenzionalità, lui non voleva affatto fermarsi e questo è spiegato anche dal fatto che effettivamente si nascondeva in quella casa abbandonata di legno nelle vicinanze di quel dirupo, solamente che oltre a destare nella comunità di appartenenza un grandissimo e drammatico clamore per quella vicenda, fa anche lui un piccolo errore, perché nella casa degli Ota, davanti alla casa ci sono due macchine parcheggiate, una del dottore e una della moglie, su quella della moglie viene trovato un biglietto, un biglietto che è scritto con la macchina da scrivere, un Olivetti del dottor Ota, ovviamente da Frazier e che praticamente è spiegato quello che era successo, che in procinto dell'Halloween di quel 1970, l'esercito di Dio era sceso in campo per punire tutti coloro che attentavano all'esistenza e alla perpetuazione dell'equilibrio ambientale e tutti coloro che avrebbero contribuito a questo tipo di problema sarebbero stati uccisi. Particolare la firma, perché si firma fante di spade, fante di denari, fante di coppe e fante di bastoni. Ah, ecco, e questa firma alla fine portò a incastrarlo, ci furono dei testimoni, no? Ci furono dei testimoni perché lui, fuggendo, ruba un'altra macchina, questa macchina viene trovata all'interno di una galleria ferroviaria che era nelle vicinanze di quel dilupo dove c'era poi la casetta di legno dove è abitato per qualche tempo. Diciamo che i sospetti vanno su di lui perché c'è questo richiamo all'ambiente che era uno dei valori fondanti della cultura hippie e c'è un personaggio che entra nella storia, che darà un grande contributo alla risoluzione dell'indagine, che è Roger Kroll, un altro hippie che viene interrogato e effettivamente rivela che c'è un personaggio, un hippie come lui, che però ha un comportamento molto strano, è molto isolato, pensa di essere il portavoce di Dio e soprattutto quando si relaziona agli altri parla sempre con i passi del libro della rivelazione e ovviamente oltre a dare queste informazioni indica anche il luogo in cui possono trovarlo, proprio in quella casetta di legno dopo il dilupo. Nel bosco? Nel bosco. E lo vanno a trovare? O è chiaro? Non avevano la certezza fosse stato lui? Ci vanno e ovviamente la trovano vuota, però sospettano che effettivamente qualcuno di notte ci vada a dormire. Allora due poliziotti soprattutto, Sanford e Rutherland, sistemano delle piccole trappole con dei ramoscelli di legno attorno alla zona della casupola di legno e si nascondono nelle vicinanze del ponte. Quando la mattina si riavvicinano di nuovo alla casetta di legno notano che queste trappole sono scattate, quindi pensano di trovare qualcuno. Entrano, trovano un grande ammasso di coperte, sotto questo ammasso c'è un ragazzo che è Frazier, gli intimano di non fare un movimento e lui guardandoli in faccia con un'espressione tra l'inquieto e il beffardo gli dice perché aspettate non mi date quello che è merito? Affermando di fatto che sapeva che i poliziotti erano a conoscenza dei terribili atti che aveva compiuto. Quindi un'autocondanna, un'autoaccusa immediata. Fondamentalmente sì. Stavo controllando, non ricordavo la data esatta, era l'agosto del 69 quando ci fu il massacro a Hollywood in cui morisce Aaron Tate. Per ricordare, quello fu ispirato da la follia di Charles Manson, non fu lui tra i protagonisti, ma i suoi ragazzi hippie, quindi passa circa poco più di un anno da... No, no, ma il collegamento è giustissimo. Però il collegamento c'è. Perché ovviamente per quell'ecidio si sospetta che ci sia l'autorialità di una setta, cosa che poi ovviamente le indagini di cui abbiamo parlato smentiranno completamente. Anzi, quando Frazier capisce di essere accostato a Manson, si arrabbia, si inquieta, non vuole assolutamente che il suo nome sia associato a quello di Manson. Perché lui si considera diverso. Perché lui si considera, come dire, l'esecutore è materiale della volontà di Dio. E quindi non può essere, oltre ad avere, secondo lui, questo sedicente onore, non può essere minimamente avvicinata a quella che è una setta. Una volta arrestato, vabbè, abbiamo detto, confessa praticamente subito, no? Si autoaccusa, ma come si comporta prima di arrivare al processo? Prima di arrivare al processo è molto riservato, è molto taciturno, non partecipa attivamente agli interrogatori. Riesce ad avere un sussulto di interazione solo quando interrogano il poliziotto che lo ha trovato nella casetta di legno, per capire bene se effettivamente quei suoi atti, assolutamente deprecabili e sanguinari, siano stati compresi come l'effettiva esecuzione di una volontà divina. E in quell'occasione si presenta con le fattezze che abbiamo visto all'inizio trasmissione. Quindi con un metà volto completamente rasato e l'altro invece lasciato come era prima, quindi con i capelli lunghi, il baffo. Invece questa foto è assolutamente simbolica ed esemplificativa della sua natura assolutamente bipolare. Anche questa rende l'idea, ma forse la precedente è ancora di più. Sì, un uomo che era diviso tra due personalità. Lei dice questo aspetto che si fa sopracciglio, barba e capelli da una parte e basta. Ed è sottolineato anche dalla testimonianza di quella che era la moglie, che effettivamente diceva che a parte il fatto di allontanarsi per due o tre giorni nel bosco armato solo di uova della Bibbia, così letteralmente aveva testimoniato, effettivamente rivelava che a casa Fraser si comportava normalmente come un normale marito e un normale padre di famiglia. Il processo lo vede finire condannato a morte, però poi ha un colpo di fortuna, perché viene abolita la pena di morte in California. Sì, nel 72. Il processo inizia un anno esatto dalla strage, a ottobre del 71. Quella stessa immagine che abbiamo visto prima fa pensare che lui invochi in qualche modo, ovviamente suffragato dall'aiuto del suo avvocato difensore, la semi-infermità mentale. E poi diceva Fattina Pertini. Invece lui vuole che sia assolutamente appurata la consapevolezza e la piena coscienza dei suoi atti. Tant'è vero che verrà, come ha detto lei, condannato prima la pena di morte e poi nel 72, quando in California viene abolita, all'ergastolo. Eh sì, 29 novembre del 71. Lui, John Fraser, viene condannato alla pena di morte e poi nel 72 però ci fu l'abolizione della pena di morte in California e la sua pena fu commutata in ergastolo. Ma morì suicida il 13 agosto del 2009, impiccandosi in cella in un carcere della California. Eh si impiccò? Abbiamo dubbi che... Sembra che non ci siano dubbi, sembra che si sia impiccato che abbia... Non è stato ucciso. ...compiuto un percorso di redenzione e che quindi si sia pentito di quegli atti e che poi abbia cercato di, come dire, risolvere almeno nella sua mente malata questa colpa uccidendosi. La cosa particolare è che però la scia drammatica di questa vicenda non finisce qui, perché noi abbiamo detto all'inizio trasmissione che Victor Roth aveva quattro figli, vengono uccisi solo i maschi, le femmine non vengono uccise perché si trovano fuori a studiare. La prima, Tara, che si sposerà due volte e alla fine non riuscirà mai a metabolizzare quella perdita e purtroppo morirà suicida anche lei. Ah quindi un aspetto drammatico legato comunque a quella vicenda. Ecco, personaggi come Mallin, ma soprattutto come il profeta assassino John Frazier, come li possiamo inquadrare nell'ambito criminologico? Sicuramente entrambi sono accomunati da una caratteristica, sono entrambi schizofrenici paranoidi, proprio per il fatto che sentivano queste voci che ritenevano venire da entità esterne, nel caso di Frazier, assolutamente divine, che quindi li inducevano a compiere quegli atti. Ma fanatici religiosi al contempo oppure a una conseguenza? Frazier sì, Frazier sì. Diciamo che più che una conseguenza è un'influenza bionivoca, diciamo il fanatismo ha alimentato anche quell'autoattribuzione, quell'ammantarsi di questa responsabilità tra virgolette di ripulire il mondo da tutto quello che poteva intaccare la naturale essenza e l'equilibrio ambientale che c'era prima della modernità per quanto riguarda Frazier. Per Frazier poi possiamo aggiungere anche un altro aspetto che è una sorta di analfabetismo emotivo che ricorre in tantissime altre storie, in tantissimi altri serial killer, un deficit affettivo che nasce sicuramente da una situazione familiare di partenza completamente diversa da quella di Mullins. E il contesto, diciamo sociale, quanto può aver influito il periodo degli anni 60? La cultura hippie molto. Ha inciso molto su altri serial killer che abbiamo visto, che erano protagonisti perché magari andavano a caccia di hippie, uccidevano hippie. Abbiamo parlato di Charles Manson e dei suoi adepti. Charles O'Brush su tutti. Ecco, quindi era un periodo, può aver inciso? Assolutamente sì, può aver inciso. Anche la parte legata al culto, legata alla religione è molto importante perché come abbiamo detto gli hippie, oltre ovviamente a abbracciare simbolicamente quella che era la difesa dell'ambiente, avevano anche una sorta di idiosincrasia verso la religione strutturata generalmente intesa. Molti abbracciavano addirittura il paganesimo, altri la religione della wicca. Quindi anche in questo c'era una grande frammentazione. Uniamoci anche l'utilizzo di droghe e di stupefacenti, in quel periodo era molto fiorente. Questo coacervo di elementi sicuramente ha potuto costituire una sorta di comune denominatore rispetto a comportamenti come questi. Grazie al professor Marino D'Amore per questo nuovo capitolo della Galleria degli Orrori. Abbiamo parlato di John Lilley Frazier. Peraltro anticipiamo che la novità di oggi, tra poco, proprio sul canale YouTube di Cusano Italia TV, troverete, e questa non è una novità perché avviene tutte le domeniche sera dopo le 23, trovate caricata sul canale YouTube la puntata integrale per chi si fosse perso i precedenti capitoli, ma da oggi troverà a parte la Galleria degli Orrori. Così creeremo un'ulteriore galleria per gli appassionati di serial killer, in questo senso, quindi troverete questo capitolo, la Galleria degli Orrori, a parte rispetto alla puntata intera di Crimini e Criminologia, caricata sul canale YouTube di Cusano Italia TV. Grazie ancora al sociologo della comunicazione, qui all'Università, Nicolò Cusano è criminologo, professor Marino D'Amore, ci ritroviamo domenica prossima per un altro mostro, un altro serial killer. Assolutamente sì, grazie a voi, buonasera. Io vi ricordo, oltre ad aver ricordato il canale YouTube, che potete iscriverci per tutte le vostre necessità, indicazioni, suggerimenti, anche in merito magari ad argomenti che vi piacerebbe fossero approfonditi, qui legati sia ai serial killer che ovviamente ad altri casi che hanno fatto la storia del crimine e della criminologia, potete o commentare direttamente su YouTube oppure scriverci a infochiocciolacusanoitaliatv.it, ricordo ancora la mail infochiocciolacusanoitaliatv.it, ringrazio chi ha curato la regia, Manuel Mazzei ed Emanuele Forcina, ringrazio Claudia Di Fonzo per le grafiche e il montaggio e Aurora Vena che ha lavorato in redazione, in post produzione, devo anche ringraziare Daniele Loda, ma ringrazio soprattutto voi per la cortese attenzione, appuntamento la settimana prossima con crimine e criminologia, buon proseguimento con i programmi di Cusano Italia TV. Loda, ma ringrazio, buon proseguimento con i programmi di Cusano Italia TV.